ciao a tutti ragazzi ben ritrovati e adesso chissà chi di voi sarà al mare chi di voi non sarà al mare io come potete vedere sono ancora qua a fare qualche video interessante per voi oggi parliamo di riverberi un argomento sconfinato veramente un argomento sconfinato dove c'è da dire veramente tanto però in particolar modo oggi vi volevo dare tre buone ragioni per raggiungere il riverbero ovviamente il riverbero è un tool un effetto che serve a dare appunto dimensione al suono è molto importante uno strumento veramente molto importante perché ci può aiutare in primis a rendere magari un suono piatto troppo asciutto un po più reale quindi un po più riconoscibile al nostro orecchio perché ovviamente il nostro orecchio è abituato a sentire suoni diretti mischiati al riverbero perché ovviamente tutto ciò che è ascoltiamo anche la nostra voce anche la mia in questo momento in cui sto parlando è comunque un suono diretto insieme appunto le riflessioni che arrivano alla stanza però oggi discorso non verte su quello principalmente dal mio punto di vista le tre buone ragioni per raggiungere il riverbero sono la prima e dare dimensionalità al suono oppure detto in modo un po più semplice spostare leggermente il suono da questa posizione a quest'altra posizione lo faccio principalmente con una room che è un riverbero molto corto al di sotto di un secondo 0607 riverbero corto e scuro che mi aiuta a dare dimensionalità quindi a spostare un attimino su indietro ma anche a renderlo un po più grande perché provateci e fateci attenzione oltre una room piccola oltre a fare questo movimento far fare questo movimento al suono gli da anche una dimensione stereo è come se il suono diventasse molto più grande la seconda ragione è quella di dare profondità come faccio a dar profondità tramite il riverbero solitamente utilizzo un plate molto scuro che non sia molto stereo tra virgolette sia un plate che va a occupare più che altro la parte mono cioè sia molto stretto a volte addirittura utilizzo proprio un plate mono e mi serve appunto per andare ad emulare quella che potrebbe essere un'ipotetica riflessione che arriva dal fondo della stanza in questo caso utilizzo un plate che va sopra al secondo un secondo e mezzo con un pre delay abbastanza importante perché voglio appunto che questa riflessione arrivi dopo mi dia l'illusione che sono in una grande stanza e che appunto ci sia questa riflessione che arriva dal fondo della stanza la terza ragione è dare emozionalità al suono che sto trattando lo faccio solitamente con un concert hall o con dei plate o con uno shimmer ok questi tre sono riverberi molto 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 lunghi arrivo fino a 7 anche 10 secondi con un pre delay molto importante sopra i 70 millisecondi diventano praticamente come se fossero delle tastiere di sottofondo e le aggiungo a piccolissime dosi e quindi tramite questo questa mandata effetti questo tipo di riverbero do emozionalità e do anche una base ok su cui la voce si poggia solitamente le utilizzo sempre tutti e tre e secondo me appunto queste sono le tre buone ragioni per utilizzare i riverberi come sempre ragazzi spero di esservi stato utile però vorrei fare un piccolo approfitto di questo video per fare una piccola parentesi più vado avanti a fare video e più i miei haters crescono sempre più spesso appunto sotto i miei video trovo dei commenti non idonei dei commenti che non sono costruttivi lo sappiamo tutti è un problema come dire della rete però vi voglio ripetere una cosa e velari dico anche in video l'ho scritta più e più volte questa è la mia pagina ovviamente su questa pagina diciamo che sono ben accetti i confronti quando sono costruttivi quando il confronto diventa distruttivo e diventa solo uno sfotto e le critiche sono appunto solo distruttive ok quindi sono solo critiche che sono basate su niente allora a quel punto ragazzi come detto più volte vi banno senza neanche avvertirvi mi hanno anche più volte incolpato che blocco senza neanche dare un avvertimento ma l'ho detto più volte a me non vanno critiche che sono controproducenti sono aperto al confronto sono d'accordo che non si può essere d'accordo col mio punto di vista a qualcuno posso anche non piacere non si può piacere a tutti assolutamente è una cosa come dire impossibile però il confronto deve essere sempre rispettoso e costruttivo quindi accetto la differenza accetto qualcuno che si contrappone dando però dando delle buone ragioni ok non accetto chi arriva e lo fa solo per come dire polemica sterile e lo fa solo appunto per attaccarmi basta quindi ve lo ripeto ragazzi commentate interagite tantissimi contraddiscetime non c'è problema però fatelo sempre con rispetto è importantissimo ritornando alle cose belle vi ricordo che ci sono i summer sale su improv your mix andate a fare un giro che c'è roba molto interessante vi saluto buon mix a tutti ciao